gentili telespettatori buongiorno benvenuti a tele bs benvenuti a polis continuano le interviste che hanno la mira di conoscere perfezionare le conoscenze dei programmi ma anche quelle che sono le idee le intraprendenze da parte dei nostri candidati quest'oggi stiamo con anna maria tranchida che è ritornata a trovarci benvenuta buongiorno voltaggio buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito e abbiamo l'intenzione di affrontare delle tematiche con lei che riguardano un po anche l'aspetto del suo lavoro lei è una psicologa e ne ho anche una psicoterapeuta quindi cercheremo di fare due investigazioni la prima di carattere sociale la seconda di carattere professionale su almeno su alcune domande ma non perdiamoci in chiacchiere partiamo mi dici perché perché si sceglie di votare e di sostenere la democrazia cristiana che un partito che apparteneva alla prima repubblica poi è scomparso adesso è ritornato dalle nostre parti veramente in voga state andando veramente bene anche tu con i consensi la settimana scorsa hai visto che con le visualizzazioni penso che puoi ritenerti molto soddisfatta allora perché si sceglie di votare e di sostenere la dc allora è una domanda molto interessante anche questa voltaggio ma anche perché in questo momento ci troviamo in un momento in cui ci sono dei grandi cambiamenti e proprio per questi grandi cambiamenti noi dobbiamo essere in grado di affrontare questi cambiamenti e perché non affrontarli sostenuti da un partito che è sempre stato un partito storico che ha creato la storia della dell'italia della città io questo mi riferisco storicamente come le dicevo l'altra volta ad una storia che fa parte della mia famiglia dove insomma si è ci si è occupati di politica e vi ripetevo che io fino a questo momento comunque non sono mai entrata in campo perché mi sono occupata di altro però la storia della dc una storia meravigliosa perché è una storia della dc repubblicana una storia che ha cambiato le sorti del paese e ha cambiato le sorti del paese in meglio poi chiaramente ogni partito qualsiasi partito come qualsiasi parte della storia come vi dicevo l'altra volta è formata da uomini e quindi ovviamente gli uomini hanno le loro caratteristiche oggi la dc entra in campo in campo forte entra in campo proprio a gamba tesa perché perché è sempre stata molto amata perché è rappresentata comunque da una nuova generazione che è una generazione seria che ha voglia di lavorare e che ha voglia di fare del bene per la nostra città c'è anche il fatto secondo me che è un partito che rappresenta moltissimo la moderazione è vero che non esistono più gli estremismi però è anche vero che la moderazione forse è una carta vincente ma io sono una persona di pensiero moderato ed è per questo che mi ritrovo all'interno insomma anche di questo partito io non credo molto negli estremismi anche perché gli estremismi caratterizzano tante volte insomma delle disomogeneità di carattere e oggi con i malesseri che ci sono stati socialmente anche dovuti per esempio al covid piuttosto che alla paura delle guerre eccetera eccetera la rabbia delle persone potrebbe facilmente convogliarsi in estremismi che potrebbero diventare pericolosi per questo motivo noi non dobbiamo guardare soltanto il nostro ma dobbiamo guardare una situazione generale che va osservata con un dettaglio importante quindi in questo momento storico ancora di più delle persone di buon senso è importante che portino avanti la moderazione perché la moderazione ha sempre caratterizzato anche le buone famiglie il saper dialogare mettendo in tavola le caratteristiche diverse di ognuno e facendole diventare preziose in un colloquio è sempre stato un motivo di ricchezza e quindi anche oggi è quello che vogliamo per la nostra città e per il nostro paese politicamente parlando siamo ormai gli ultimi quattro giorni prima di andare a votare no? quanto temete il voto disgiunto e credete sempre di farcela a prima botta cioè senza bisogno di andare al ballottaggio sì allora io credo fortemente eh di non andare al ballottaggio cioè non andremo al ballottaggio perché il il cittadino è fortemente schierato perché ha trovato nel nostro impegno nell'impegno di eh della sindaca della candidata sindaca vita di Polito e in tutta la coalizione che la sostiene ha trovato forza cioè eh noi dobbiamo ricordarci di una cosa che in questo momento se la città è in un momento critico e anche in un momento dove le casse insomma sono state eh messe anche in difficoltà e in crisi e perché molto probabilmente prosciugate io non volevo essere così estremista che parlavamo prima di estremismi ma purtroppo quello eh ecco però eh visto che è accaduto questo noi abbiamo bisogno di gente capace abbiamo bisogno di gente onesta abbiamo bisogno di gente che è decisa c'è eh come una famiglia non può essere governata assolutamente da indecisi perché creerebbe dei figli problematici anche una città non può essere eh governata da eh immaturità e da indecisione dove ad un certo punto si vedono delle corse all'ultimo momento che sono quelle insomma della richiesta del ehm diciamo dell'apprezzamento non è possibile questo io vengo da delle scuole che sono delle scuole molto dure e molto importanti dove non c'è mai stata la possibilità di recuperare all'ultimo secondo ma si comincia a lavorare molto prima chi ha recuperato all'ultimo secondo è sempre stato bocciato in un certo senso si parte bene per finire bene esatto io sono convinta di questa cosa no poi ci possono essere delle persone che si correggono in corso d'opera questo è importante perché anche eh il lo stare eh in in una determinata situazione prendi anche le caratteristiche di tutto quello che c'è intorno ma è importante la consapevolezza delle proprie idee se hai la consapevolezza vai dritta assolutamente sì questo è un aspetto che non è da trascurare quando si fanno delle programmazioni progetti eccetera la consapevolezza delle proprie idee o delle proprie forze che sostanzialmente è la stessa cosa senti e presumo che tu avrai avuto modo come tutti in città di sentire diciamo più o meno apprezzamenti sul quello che io chiamo correzione dell'arenile il sindaco lo chiama rifascimento delle spiagge ti è piaciuta st'idea di sparare questa sabbia così per diciamo aumentare i metri quadri della spiaggia tondarella guardi voltaggio io le dico una cosa che secondo me in questo momento ci sono molte sparate e questa fa parte proprio delle tante sparate che ci sono in questo momento quindi io credo che anche la città vada trattata in un determinato modo vada trattata con rispetto io mi voglio augurare che il lavoro che sta facendo sia un lavoro consapevole che sia un lavoro fatto bene io non sono un ingegnere non sono un muratore non sono un geometra quindi non mi so occupare di queste cose però io spero che ci sia un buon risultato anche perché le spiagge fanno parte del patrimonio di questa città e vanno curate ma vanno curate non una settimana prima dalle elezioni ma molto tempo prima spiegheresti agli amici a casa perché l'amministrazione polito sarebbe migliore rispetto alle altre sì allora l'amministrazione polito è un'amministrazione che innanzitutto si basa sul confronto delle idee la nostra candidata sindaca è diciamo arrivata a sorpresa no arrivata sorpresa ma con questo non vuol dire che è arrivata all'ultimo momento perché ha avuto bisogno di un periodo di tempo in cui ha elaborato analizzato analizzato le carte ha letto tutto ed è questo che un buon professionista deve fare cioè non si può arrivare all'arrembaggio e poi dopo ad un certo punto cercare di trovare dei consensi semplici è arrivata lentamente e poi dopo ad un certo punto è venuta fuori con forza io credo nel cambiamento e chi è pronto al cambiamento deve essere pronto anche a mettere una croce in senso di consenso sulla persona giusta anche io arrivo all'ultimo momento con questo non vuol dire che arrivando all'ultimo momento sia una persona meno professionista e meno capace delle altre o sei l'ultima o sei l'ultima il fatto di essere arrivata per ultima non significa essere ultimi esatto io arrivo spesso ultima perché un cognome con la t e sono abituata ad essere arrivata ultima però devo dire che poi dopo nei risultati sono spesso arrivata prima non so se questo accadrà perché se non accadrà io sono convinta che verranno sicuramente preferite delle persone che sono capaci un buon giocatore un buon professionista è un professionista che sta anche mettersi da parte nel momento in cui ci sono delle persone che sono vincenti non so se avete mai visto dei tornei bellissimi tra feder per esempio e nadal cioè alla fine si scontrano a me piace scontrarmi con delle persone serie con delle persone valide poi dopo stringerci una mano e bere poi dopo insomma un bel aperitivo vedevamo poc'anzi le immagini della kermesse della presentazione della sindica della sindaca con le con la coalizione no lì tu mi pare che sei tu quella lì si sono io quella lì e quel taggio guarda la gente tutte si alza e applaudire allora in realtà stanno applaudendo alla sindaca ma comunque al di là della la battuta e cosa ti è rimasto di quell'incontro lì perché quella sera lì c'è stato un incontro appassionato e caldo da parte di tutti i partecipanti è stato un momento di confronto con una platea come stiamo vedendo non solo giù ma anche su tutto pieno c'erano 1118 persone è stato un momento in cui diciamo si è aperto il vero confronto con la città questo è stato il momento in cui voi vi siete specchiati per la prima volta con l'elettorato e con la città è possibile sì allora è stata una serata meravigliosa una serata che ha dimostrato proprio la coesione che c'è nella nostra coalizione e quindi anche nella nostra DC in quel momento io non avevo fatto insomma ancora questa scelta ma in quel momento io appoggiavo tutta la coalizione appoggiavo comunque la candidata che io avevo scelto consapevolmente mi ero informata mi ero rivista nelle sue idee nelle idee che lei portava per la città e anche nelle lei come persona poi chiaramente ci sono delle differenze come ci sono delle differenze fra tutti ma quella è proprio la meraviglia del mettere insieme i diversi pensieri quella sera è stata una sera spettacolare una sera in cui anche io come la candidata sindaca come tutti gli altri tecnici insomma abbiamo ricevuto tanto consenso io quando sono salita sul palco ho portato in realtà me io sono questa cioè come mi vedete sono non pensate di trovare poi dopo un'altra persona anche in consiglio o quello che sarà il mio ruolo io sono salita sul palco e sul palco io ho portato tutti tutte le persone che facevano parte della coalizione in quel momento ho portato la sindaca e ho portato le storie dei cittadini e le storie dei pazienti che mi portavano quindi io sono salita su piena di emozioni piena di sentimenti e sono contenta perché è proprio quello che è arrivato al pubblico cioè la verità da quando è iniziata la campagna elettorale diciamo da quell'incontro lì che vedevamo poc'anzi con le immagini eccetera ad oggi penso che la tua persona sul territorio di Mazzara abbia una visione diversa perché come dici tu sei venuta quattro anni fa a Mazzara ancora pur essendo mazzarese di nascita a mano ancora non ti sei diciamo inserita del tutto credo credo che questo periodo sia servito anche per permettere a te a farti conoscere dalla gente la gente conoscere te no? sì sì allora ti correggo soltanto su una piccola cosa nel senso che non sono mazzarese di nascita mio papà era mazzarese ma in realtà mio papà è mancato quando io ero piccola e quindi ho sempre vissuto con la famiglia di mia mamma ma abbiamo mantenuto questo legame anche con la famiglia di mio papà purtroppo la mia famiglia è sempre stata una famiglia che ha subito dei lutti importanti e però le persone che sono scomparse per me rimangono nel mio cuore io sono venuta qui quattro anni fa dovevo rimanere per un periodo di lavoro in realtà questo lavoro si è tratto i primi due anni erano gli anni di covid quindi io sono rimasta anche un po' sul mio e poi io sono una persona abbastanza riservata quindi non si parla tanto di me a mazzara se non del lavoro in realtà in effetti il lavoro della mattina alla sera e quindi pian piano ovviamente ero conosciuta in determinati ambienti e sicuramente questo momento politico ha aperto probabilmente la mia figura anche a nuove conoscenze ma io sono contenta sono contenta di questo perché perché mazzara è una bellissima città una città meravigliosa i cittadini sono delle persone meravigliose io sono un pochettino mazzarese quindi e quindi questo io lo sento molto ed è una città che ha bisogno proprio di una spinta di una spinta in questo caso per me di una spinta un po' milanese ma insieme a tutti gli altri ecco proprio per portare di nuovo mazzara lo splendore che io ricordo nel passato allora intanto tu dobbiamo dire gli amici a casa che la responsabile è lei la colpe sua di che cosa dei circoli culturali che sono diventati un preziosismo all'interno della vostra coalizione come mai questa idea l'hai portata tu erano erano diciamo una esperienza che già avevi fatto oppure hai pensato di realizzare questo questo circolo perché alla fine a mo di circolo questa cosa questa esperienza si giostra sì allora è stata una mia iniziale un mio iniziale desiderio ed è per quello che ti dicevo la meraviglia di questa candidata a sindaca è il fatto che accoglie il pensiero di ognuno e poi dopo questo pensiero viene trasformato insieme a tutte le persone io nelle varie tipi di lavoro insomma che ho fatto anche teatrali nel senso di conferenze o trasmissioni eccetera eccetera ho sempre amato i salotti perché il salotto per me è un terreno democratico dove si può condividere le idee e dove si può scambiare per creare qualche cosa di bello io ho proposto questa cosa l'abbiamo cominciata ad organizzare poi chiaramente questo salotto ha preso anche le caratteristiche delle persone che man mano vi hanno partecipato non sono io l'unica fautrice insomma di questa di questa idea insieme a me l'ha pensata anche Margherita Ippolito che è una mia fantastica collega con cui ho condiviso una bellissima strada un bellissimo percorso anche quando sono venuta qui e abbiamo continuato a mantenere questo scambio di idee questo scambio di proposte sempre molto interessanti quindi poi questo e questi salotti sono proseguiti ed è giusto che questi salotti adesso man mano prendano le caratteristiche delle di tutte le persone che ci parteciperanno e io voglio che mazzara cominci di nuovo a rivivere che cominci di nuovo a rifrequentarsi in salotti rifrequentarsi in circoli perché è una città che deve vivere che ha le caratteristiche per vivere i cambiamenti di abitudini e soprattutto di mentalità hanno bisogno di molto tempo per manifestarsi per essere recepiti dalla gente e per questo che i mazzaretsi sono resti alle cose nuove sai perché te lo dico? Perché la pista ciclabile è oggetto di qualunque tipo di considerazione non ci si riesce a mettere d'accordo c'è chi dice che va bene c'è chi dice è un disastro c'è chi dice toglie la visuale del mare c'è chi dice ma che se ne frega tanto c'è il passeggio c'è chi dice che la bicicletta tutto sommato la pista ciclabile è un'espressione di europeismo eccetera eccetera ma io invece sposto l'argomento sotto l'aspetto sociale forse più psicologico cioè i cambiamenti di abitudini sono difficili da accettare? Allora Voltaggio io come le dicevo l'altra volta abbiamo già accennato qualche cosa sulla pista ciclabile no? E quindi per me è una bellissima idea anche se secondo me poteva essere anche fatta in un modo differente cioè nel senso che secondo me sarebbe stata più adatta perché in realtà è un rettilineo che quindi non permette al cittadino di muoversi all'interno della città che avrebbe senso dal punto di vista ecologico no? Ma è un rettilineo che riguarda soltanto la costa e quindi sarà un passeggio semplicemente e che può essere una buona idea certo che però fin quando non viene fatto un terreno fertile prima dove ci sono dei mezzi di trasporto adesso finalmente c'è il furgoncino perché queste sono le magie dell'ultima settimana e questo polmino che però è soltanto estivo e quindi sarà soltanto eventualmente per i turisti e poi dopodiché non copre neanche tutta la città cioè l'idea che ha la nostra candidata sindaca e tutti i tecnici che sono intorno è di creare una mobilità che sia differente, che sia più strutturata per la città E che parta principalmente dalle periferie E che parta dalle periferie che per noi non sono più periferie ma che diventano parte integrante della città Allora periferia in realtà non è un brutto termine se la periferia viene curata Per esempio io a Milano abito in una periferia perché io abito in zona San Siro eppure è una zona bellissima quindi non è centrale però è una zona meravigliosa Il problema è che non si può creare delle situazioni e poi dopo dimenticarsene Non si può creare per esempio anche delle scuole in una periferia e poi dopo dimenticarsene Cioè è meravigliosa l'idea di avere una scuola un polo scolastico che per esempio è in mezzo alle campagne ai tramonti, alle vedute, bellissimo Poi dopo deve essere servito e deve essere curato perché questi ragazzi sono minorenni nella maggior parte dei casi Quindi devono andare accompagnati e quindi bisogna creare autonomia nei ragazzi Altrimenti dovevano fare una cittadella universitaria con persone grandi che avevano la possibilità di spostarsi con delle auto E questo sicuramente non era un pensiero ecologico con le auto però aveva più senso in questo senso Ecco quindi le periferie esistono perché nel senso intese come al bordo della città Ma se sono al bordo della città non possono essere dimenticate Anche se in realtà a voltaggio in questo momento io le dico una cosa importante Per me non è dimenticata soltanto la periferia ma sono dimenticate anche le parti centrali e tante altre parti della città Non sono attenzionate come dovrebbero? No, allora la cosa che mi viene riferita tante volte dai turisti è una cosa che a me dispiace moltissimo E che la città viene percepita come sporca Ecco e perché esteticamente non è curata come tante altre città di mare Eppure è una città meravigliosa Però io sono stanca di dover sentire i cittadini che dicono Mazzara potrebbe essere, Mazzara potrebbe essere Cioè si vive soltanto con il condizionale, con il potrebbe Invece in realtà noi dobbiamo cominciare a pensare, possiamo, facciamo, dobbiamo cominciare a pensare tutti i giorni Ed è per questo che nel mio programma c'è l'idea di creare una prevenzione Ecco io credo molto nella prevenzione Cioè se noi non curiamo senza fare prevenzione Allora a quel punto rischiamo di non snodare dei cardini importanti Che fanno parte della cultura del cittadino Che a volte magari non ci pensa semplicemente a determinate cose Cioè il cittadino non è cattivo Non è malstano che va punito Se ad un certo punto l'immondizia non è al suo posto Ma è un cittadino che va educato a questo Se noi lavoriamo su questo E quindi lavoriamo su questo pensiero Io sono sicura che fra un po' di tempo possiamo tirare su dei risultati Cioè se il cittadino va educato Per esempio a non abbandono anche degli animali Ad un certo punto noi questo risultato lo vedremo Già si vede qualcosa perché del lavoro è stato fatto Per carità del cielo Però è molto sulle spalle dei volontari Compresa me Ecco noi non possiamo pensare che un turista che viene qua Rimani a piedi e si porta dalla spiaggia Un sacchetto dell'immondizia e un cane randaggio sotto braccio Cioè non fa parte del 2024 La ricerca del consenso è l'incipit assoluto della politica Cioè una sorta di questo è punto e basta Il consenso a qualunque costo In nome del consenso praticamente si fa tutto Questa è una logica perversa Oppure il fine giustifica i mezzi? Allora io come le dicevo l'altra volta Voltaggio sono una persona molto chiara E mi sembra di dimostrarlo sempre E anche molto onesta Non sono disposta per il consenso ad avere tutto Tant'è che infatti io mi presento in candidatura Sì con un partito Ma io mi presento sola Cioè nel senso in un momento dove tante situazioni sono già sature Quindi io in questo momento avrò il voto del cittadino libero Del cittadino che è stanco Del cittadino che ha voglia di cambiare Del cittadino che dice Ma guarda questa dottoressa secondo me è una che Insomma bella Ritmata e tosta Che forse può fare qualche cosa per noi Ecco io voglio il consenso di queste persone Quindi il mio voto che sarà di 30 persone o che sarà di 500 persone Sarà il voto di queste persone Di persone che hanno voglia di cambiare Che hanno voglia di vedere gente che lavora Io al mare ci vado poco Quindi datemi qualcosa da fare Bella questa Questo motto Ne ha un altro Il motto che sarebbe Datemi un desiderio e cercherò di realizzarlo O qualcosa del genere Ma comunque anche questo non sarebbe molto Non va al mare Quindi non avendo nulla da fare Datele qualcosa da fare Ne terremo dovuta considerazione Allora se accadesse che domani mattina Domani mattina nel senso il 10 È nominata consigliera comunale Vuol dire che fare gli estordinari Visto che non vai al mare D'estate Tutti i progetti Li appoggeremo sulla sua persona I tre candidati a sindaco Sembrano appaiati nelle preferenze dei cittadini Siamo al rush finale Ci sono stati dei dislivelli A ragione del vero Ma in questi giorni Lo diciamo anche per onor di cronaca Nel senso che Facciamo una sorta di parcondicio Ecco In realtà le cose non stanno così Ci sono già delle preferenze marcate Però c'è non di meno Possiamo dire che Sono Le preferenze sono appaiate E Sarà comunque una lotta Sempre all'ultimo voto? Ma allora Vulcaggio Io spero che sia una bella lotta Capito? Perché altrimenti Non ci sarebbe il gusto della competizione Detto questo In questo momento Noi sappiamo di avere La maggioranza delle preferenze Fino a questo momento Poi adesso si vedrà Che cosa accadrà Nell'ultima settimana E di questo ne sono ben contenta Ma anche perché In realtà Noi non siamo in una monarchia Noi siamo in una repubblica Noi siamo in una democrazia E quindi è giusto Che ci sia un cambiamento Perché il cambiamento Porta delle nuove idee E come altrimenti Una persona che ad un certo punto Nella sua vita Si rimette insieme Sempre con il fidanzato precedente Ma non è possibile Una roba del genere Vultaggio Cioè Spararsi Cioè Quindi ad un certo punto Noi dobbiamo scegliere Necessariamente Una nuova persona Soprattutto se è una persona Intelligente Una persona capace Una persona che è ben sostenuta Una persona che è sostenuta Da persone competenti Perché avere paura Del cambiamento? Perché viene portata Questa idea Dove chi verrà Distruggerà? Questa è un'idea malevola Che non può esistere Una cosa del genere Se questo è un pensiero Che caratterizza Chi lo esprime Non chi verrà Questo è molto importante Da comprendere Perché fino a questo momento Noi non abbiamo distrutto niente Ma stiamo costruendo Se si andasse al ballottaggio Questa competizione Si chiuderebbe Il 23 di giugno Quindi ci sarebbe Da fare Gli straordinari Per altri 15 giorni Sei pronta? Allora Io sono pronta A buttaggio Perché non vado al mare Ma io non so Se i cittadini Se i cittadini sono pronti Quindi io direi Concludiamola in fretta Concludiamo in fretta Perché comunque Decidiamoci bene Votiamo bene Perché è molto importante E soprattutto Io vi chiedo Per favore Votate persone competenti Non votate per fare un favore Perché il voto E la preferenza In politica Non sono dei regalini Non sono dei pensierini Che si fanno sotto l'albero di Natale Ma sono delle scelte Sono delle scelte consapevoli Perché poi caratterizzeranno Quello che voi avrete Nelle decisioni Della vostra città Quindi in questo momento Io chiedo innanzitutto Alle persone che sono indecise Di andare a votare Perché è un momento storico Molto importante per la città Che ha bisogno di un cambiamento Alle persone annoiate Di andare a votare Alle persone che Che amano il mio stile Di andare a votare E alle persone che In questo momento Non credono Perché sono un po' Delusi Da quello che è accaduto In precedenza Di andare a votare E di metterci alla prova E sai perché La gente potrebbe essere stanca? Perché in realtà Questa campagna elettorale È iniziata nel mese di febbraio Quindi è datata E come tutte le cose datate A un certo punto stufano Insomma È una condizione Questa Della sfasmodica ricerca Del consenso Che tutti vedevano Perché si prevedeva Che si votasse anche Per le provinciali Invece così non è stato Quindi i tempi Si sono allungati Infatti per esempio Nella vicina Castelvetrano La campagna elettorale È iniziata due mesi fa Non è iniziata Quattro mesi fa Comunque E io l'ho iniziata Tredici giorni anche Quindi una settimana fa Quindi Ok Venerdì sera I comizi dei tre candidati A sindaco Cosa ti piacerebbe sentire Tra le loro idee O in che modo potrebbero risultare vincenti Allora Io voglio che In questi comizi Allora sicuramente La nostra candidata sindaca Ha già espresso l'idea Di ringraziare E questo è un dovere Nei confronti dei cittadini Infatti è per quello che dico Le idee meravigliose Della nostra candidata sindaca Anche io ringrazio Tutte le persone che ci sono Tutte le persone che ci sostengono Tutte le persone che sostengono il partito E tutte le persone che stanno sostenendo La coalizione e la candidata Quindi sicuramente io sentirò Nel comizio della nostra candidata sindaca Che per noi è già la sindaca Dei ringraziamenti E questo per me è una meraviglia Perché vuol dire accorgersi dell'altro E fino a quando noi non ci accorgiamo dell'altro Come possiamo portare avanti una città? Come possiamo portare avanti dei cittadini Se io non vedo l'altro E quindi non vedo neanche il cittadino? Quindi già un comizio Che sarà un ringraziamento Vorrà voler dire preferenza per il cittadino Quindi progetti e programmazione sì Ma al centro sempre la gente Al centro la gente, i cittadini e la città Gli indecisi e i negazionisti Questi sono i veri protagonisti delle non elezioni Perché praticamente E forse anche di un esito finale Che non è realistico Sono da ritenersi responsabili in negativo Esiste un modo per coinvolgerli O sarebbe soltanto tempo sfregato? Allora Esiste assolutamente il modo per coinvolgere queste persone Cioè mai demortere sotto la stessa Ma assolutamente no Io sono una persona che non si arrende fino all'ultimo secondo Infatti come vedete Io nella mia campagna elettorale Anche se è stata di 13 giorni Praticamente io ci ho messo tutto l'impegno del mondo Quindi per me non è A me se danno tre giorni su cui lavorare Io lavoro su tre giorni Se ne ho 13 Lavoro su 13 Se ne ho 20 Lavoro su 20 E per quello che io non riesco a capire Come mai nella sindacatura precedente Si meravigliano di essere arrivati a 5 anni E di non aver fatto in tempo a finire le cose E chiedono la proroga Cioè tu sai che hai 5 anni di tempo In quei 5 anni devi lavorare Se non hai fatto in tempo Cioè pazienza E quindi allora a quel punto Avere l'idea del tempo Per me è molto importante Questo tempo va assolutamente rispettato Perché è nel rispetto dei cittadini Ottima Tenti La tua espressione Mi riferisco proprio al tuo viso Il tuo modo di porti Ci parla di una donna che ha fatto il suo Comunque vada sarà un successo? Comunque vada sarà assolutamente un successo Sarà un successo perché come vi dicevo Io sono entrata in campo per sostenere la coalizione In questo caso per sostenere il mio partito Quindi comunque andrà sarà un successo Soprattutto perché finalmente avremo La cinquantesima sindaca Che sarà una donna Che riuscirà a portare avanti Le idee della città Ha già un'idea della nostra città Che è un'idea moderna Finalmente un'idea moderna Un'idea di città Che va a pari passo Con quelle che sono le altre città italiane E questo è molto importante Anche per ricevere i turisti E poi per me come andrà sarà un successo Perché io so che Quando tra l'inizio di un qualcosa E la fine di questo qualcosa C'è un durante Ed è nel durante che noi dobbiamo dare il meglio di noi Poi se io sono piaciuta E i cittadini sono ancora liberi E hanno il desiderio di avere me in consiglio Io mi prenderò la responsabilità di tutto questo Se altrimenti verranno considerate delle altre persone Io forse avrò più tempo per andare in spiaggia E lo troverai a quel punto Sì E sai che ci sono tante cose da fare no? Sì Cioè non è una passeggiata È un impegno Perché Mazzara è bella Ma ha tante cose che debbono decisamente essere riviste Quindi è una rimodulazione Ad iniziare da quel concetto di pulizia Di cui parlavi poc'anzi Che non è una cosa semplice Fino a finire alle periferie Alle scuole quando tu le dicevi Sono dislocate in aree Non proprio servite al meglio delle capacità Che obbligano le famiglie A fare dei sacrifici Anche in termini economici A accompagnare i figli Andarli a prendere Insomma è tutto un sistema Dove le cose debbono Ovviamente se parliamo del 2024 Calandoci nel nostro tempo Necessitano dei miglioramenti Per dirla alla buona area Per non dire che è sempre una rivoluzione Ma poco ci siamo Allora Siamo stati 34 minuti insieme Grazie In queste 34 minuti Anna Maria Tranchida Ha avuto la possibilità Di dire veramente tanto Anche perché lei Come avrete notato Parla velocemente Però dice quel che deve dire lo stesso E penso che c'è la possibilità Di riflettere abbondantemente Su quello che ha detto Su quello che propone E anche sul modo come lo propone Quindi io vi lascio Alle riflessioni delle sue parole E a voi A prendere le decisioni Ringrazio Anna Maria Per essere stata con noi Grazie Un po' al lupo Assolutamente doveroso Grazie E con voi ci vediamo più tardi Arrivederci Grazie